Bene, ora vediamo in diretta la preparazione del tè. Sto controllando la temperatura, qui abbiamo le foglie fresche, ecco che adesso inizia la prima lavorazione, che è quella che in cinese viene chiamata l'uccisione del verde e il termine termico è la disatturazione enzimatica. Questi foglie sono stati raccolti ieri, queste vengono dal monte Mengding-Chang. La preparazione è quella del Mengding Mao Fan. Dopo il primo passaggio c'è questa rullatura sempre in padella a temperatura più bassa. Questa c'è un po' di fissazione. Intanto qui sta andando avanti l'occesso di fissazione. beh, le consumi e i posti stoppiti più grandiare alla nuova di padella. Official Sì No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.